Buongiorno a tutti i lettori di Commodities Trading e benvenuti in questo nuovo appuntamento video. Provederemo a fare una brevissima analisi della situazione del caffè, siamo sul contratto dicembre 2016 e tralascio la parte fondamentale con le ultime rilevazioni della International Coffee Organization, quindi la ICO, in quanto le trovate descritte in modo approfondito nell'articolo a cui questo video è allegato. Quindi abbiamo sicuramente un prodotto che si sta muovendo bene, lo vediamo, abbiamo questa serie bella peraltro di Massimi, una valida trendline rialzista che supporta ogni minimo toccato dal prodotto sin dal mese di giugno per arrivare al quello più recente, toccato nel 7 ottobre 2016 e quello che balza gli occhi guardando il grafico nel suo insieme è la formazione che vedete qua evidenziata in rosso. Quindi abbiamo i nostri prezzi con questi minimi crescenti e vediamo però che i massimi, quindi tolto qualche spike come quello registrato nelle sessioni del 20 settembre, ad esempio questo ancora più intenso del 22 settembre, si fermano diciamo in un punto ben preciso, quindi questo evidenziato dalla parte alta del rettangolo, quindi in area 156. Questo è l'elemento che ci può indurre a fare qualche riflessione in più sui prezzi, sulla possibile evoluzione di prezzi del prodotto, perché? Perché abbiamo questa compressione dei massimi che viene comunque supportata da minimi crescenti, quindi in questo momento due cose dobbiamo andare a valutare, in termini di valori di supporto e resistenza, tralasciando il discorso medie mobili, anche se abbiamo una 50 e la 100 che sono molto vicine, con l'accento che corre a ridosso proprio della nostra trend line realzista, quindi monitoriamo in termini di supporto sicuramente la tenuta della nostra trend realzista blu, quindi la parte bassa, la parte inferiore del nostro triangolo ascendente e contemporaneamente la tenuta delle nostre medie mobili di riferimento, 50 e 100 giorni, questo diciamo è un qualcosa in più. In termini invece di resistenza sicuramente abbiamo quest'area collocata a quota 155.8, 156 centesimi di dollaro per libra. Se noi riusciremo a, o meglio noi, se i prezzi riusciranno a confermarsi al di sopra di tale area, potremmo avere, in seguito sempre a una spinta realzista determinata da fattori fondamentali, potremmo avere delle proiezioni di prezzo anche importanti. Andiamo ad allargare il nostro grafico, prendendo la nostra proiezione sono circa 23 centesimi in termini di proiezione, potremmo arrivare anche a quota, sempre sto parlando della rottura, nei prezzi di quota 178. Quota 178 che è anche abbastanza significativa in quanto corrisponderebbe sul contratto ai livelli di praticamente febbraio 2015, dove abbiamo avuto l'accelerazione ribassista, quindi anche in termini di resistenza o di target potrebbe essere comunque un punto da tenere sicuramente in considerazione. Vediamo la situazione sempre del nostro coffee anche tramite oscillatore Ichimoku, quindi per avere qualche conferma in più sul momento di prezzo che stiamo, sull'evoluzione dei prezzi che stiamo osservando, tolgo le medie mobili tradizionali per non avere il grafico troppo confuso ed eccoci qua. Abbiamo il nostro oscillatore, lo vedete qua all'interno del triangolo, guardiamo quest'ultima parte finale, vediamo che abbiamo le quotazioni che si mantengono direi stabilmente al di sopra della Kumo, quindi della Cloud, quindi siamo ancora in un contesto positivo. Si mantengono anche al di sopra, al di sopra delle medie mobili che compongono l'oscillatore, quindi lo ricordo la Tenkan Sen, questa rossa più lenta, la Kijun Sen è più veloce e la Kijun Sen, questa blu più lenta, con la media mobile veloce che ha virato con decisione verso il realzo. Quindi potremmo anche osservare questo oscillatore per avere qualche indicazione in più. Supponiamo che andiamo in rottura del nostro punto di resistenza, quota 156, seguiti dall'evoluzione delle medie mobili, potrebbe essere un ulteriore conferma di un movimento in espansione dei prezzi più consistente. Termina qui la nostra breve analisi, ricordo che le indicazioni contenute in questo video non costituiscono per nessun motivo un'indicazione o comunque una sollecitazione all'acquisto e mantenimento di posizioni sul prodotto trattato nell'una e nell'altra direzione. Come sempre vi ringrazio per la vostra attenzione e buon trading a tutti!